Si approccia sapendo che sono una grande squadra, al di là di qualche anomalia e di qualche defezione che stanno avendo e di qualche fragilità, secondo il mio punto di vista, perché per due volte sono andato in vantaggio e per due volte poi hanno perso, almeno le ultime due con Baldini, che ritengo sia un fiore all'occhiello per noi ai tecnici, per cui è un motivo e uno stimolo in più, almeno da parte mia, avere l'ausilio di poter giocare contro un grande allenatore, un grande uomo e una persona per bene. Al di là di tutto questo, noi non dobbiamo minimamente pensare che il Crotone sia in un momento di grande difficoltà e in un momento di difficoltà, ma non di grande difficoltà. Ha uomini e risorse per poter vincere con chiunque, sta attraversando questa fase abbastanza delicata e noi dobbiamo essere bravi a cercare di triplicare le nostre forze, le nostre energie, perché non possiamo competere tecnicamente con una squadra che sulla carta è molto forte, sulla carta è più forte di noi e se noi non mettiamo le armi che dobbiamo mettere necessariamente per contrapporci a quello che è la struttura tecnico-tattica di questa squadra faremo un grande errore, quindi grande applicazione, grande intensità, grande voglia di giocare con la consapevolezza di sapere che la squadra, almeno la mia, sta vivendo un momento importante ma che non ci possiamo permettere minimamente di, non dico sottovalutare, assolutamente, proprio per il momento perché non fa parte del DNA nostro, ma certamente non specchiandoci su quelli che sono stati i risultati finora noi abbiamo un impegno veramente importante contro una grandissima squadra e dobbiamo usare tutte le armi che comportano una squadra meno forte tecnicamente e quindi dobbiamo cercare di metterla su quelle che sono le nostre armi in questo momento una buona condizione fisica, un ritmo importante e poi vediamo quello che succede alla fine intanto abbiamo tre difensori centrali per cui è da capire un attimo su chi potrebbe stare fuori domani in funzione di quelli che sono anche le caratteristiche degli altri in funzione anche di quelli che sono le partite che andremo a incontrare oggi chiedo scusa domani per poi andare a Benevento, per poi avere Latina dobbiamo guardare un po' di situazione nostra dentro non voglio pensare a quelli che sono diffidati perché per me è cercare di mettere sempre la migliore ma cercando di fare respirare anche qualcuno in funzione di quelle che saranno le partite che dovremmo affrontare poi dopo questa gara qua però in questo momento facciamo uno step vediamo un po' quello che è una condizione generale di tutti e poi valutiamo entro domani